Allora, buongiorno e scusatemi per questo video che sto facendo, ma volevo spiegare un pochettino la situazione attuale di ottica dell'escovio. Allora, noi siamo completamente attivi, stiamo lavorando senza nessun problema e come vedete siamo comunque nel nostro punto vendita, siamo chiusi a pubblico, stiamo lavorando solo online con la formula Smart Working. Allora, come stiamo lavorando? Stiamo lavorando tenendo cura a quello che speriamo, tenendo cura alle zone dove devono arrivare i prodotti, stiamo lavorando infatti sia con SDA che con DHL per coprire il territorio e allo stesso tempo ci stiamo preoccupando comunque di inviare la merce in un modo diciamo che non contaminato. quindi adottiamo guanti, tute, mascherine, schermi protettivi e quant'altro per spedire ovviamente la merce quanto più sterile possibile, quindi quanto più senza pericolo che ci possa essere nessun residuo di virus o quant'altro. Propriamente se cercano di eseguire le direttive dateci dal, diciamo, ministero, governo, quindi proprio al fine di tutelare tutti voi e di continuare il programma io ora resto a casa. Quindi l'unica cosa è che vi esortiamo e quindi a seguire questa direttiva ma allo stesso tempo vi chiediamo un po' di pazienza perché per poter fare tutto questo ovviamente le spedizioni non avvengono molto in tempo reale. quindi questo cosa significa che se voi ordinate ovviamente il prodotto viene trattato viene trattato nel senso che viene disinfettato e quant'altro quindi e poi viene spedito. Ovviamente la disinfettazione come sapete in base al materiale del prodotto o del cartone di quello che sia, il virus come voi sapete basta guardare anche online vive per un tot di tempo. Noi per questo siamo chiusi a pubblico proprio per evitare che altri possino entrare e portare ovviamente qualcosa all'interno del nostro punto vendita. Quindi per la sicurezza di tutti, nostra e vostra, stiamo adottando delle misure proprio di sicurezza, scusatemi il gioco di parole e quindi per stare tutti tranquilli ovviamente perché ovviamente vogliamo che questa sia una passione che continui una passione che comunque vi porti a restare a casa in un modo anche felice quindi in un certo modo riuscire a passare il tempo sfruttando la passione che ognuno di noi ha quindi che possa essere per i telescopi, la microscopia, l'outdoor che possa essere per la stampa 3D e quant'altro. Quindi siccome ultimamente diciamo a volte vediamo che riceviamo gli ordini e le persone, i clienti diciamo comunque già pensano che il giorno dopo il prodotto arrivi quindi questo non avviene. Come infatti potete vedere dai grandi store la merce si parte, è disponibile, se la trovate sul sito disponibile è realmente disponibile ma ovviamente dovete avere pazienza che vi arrivi a casa perché poi stiamo anche dislocati quindi la merce parte dalla logistica parte dal nostro punto vendita parte comunque in modo da dove è possibile farla partire e quindi per evitare diciamo il minor contatto possibile con quello che vi arriva a casa quindi questo cosa comporta? Comporta che poi una volta affidata al corriere il corriere di loro volta comunque hanno delle difficoltà anche loro a gestire perché comunque sono carichi di spedizioni e quindi bisogna avere pazienza che poi la merce arrivi a casa perché non tutti, non tutte le località sono servite allo stesso modo di fatti noi ogni giorno riceviamo la comunicazione su quali zone possiamo spedire su quali zone non possiamo spedire quindi SDA copre determinate zone DHL copre altre zone quindi a volte succede che determinate zone sono bloccate quindi dobbiamo attendere che si sblocchi la situazione per poter spedire oppure a volte siamo costretti a dover rimborsare il cliente perché non è proprio possibile spedire in quella zona nonostante che attendiamo diversi giorni quindi in questo video spero di avervi chiarito il perché comunque non tutte le spedizioni arrivano subito ci sono spedizioni che arrivano regolarmente il giorno dopo e ci sono spedizioni che comunque impiegano un pochettino più di tempo ad arrivare ma non per nostra volontà ma per una sicurezza vostra vostra e nostra quindi aiutateci a lavorare in questo momento difficile aiutateci a rimanere a galla come attività che in questo momento stiamo veramente vivendo un momento difficile ma non solo per noi, per tutti perché ovviamente poter garantire tutte queste cose vuol dire rallentare un po' il lavoro ma per una sicurezza di tutti per la salute di tutti quindi non come chi qualcuno ha detto che utilizziamo il covid-19 come una scusante per quello per i ritardi o quant'altro no, perché col covid-19 come sappiamo purtroppo si muore ci sono molte vittime ogni giorno e noi non scherziamo su qualcosa del genere siamo un'azienda seria siamo un'azienda che lavora onestamente che non frega il prossimo e che comunque ci tiene a lavorare nel migliore dei modi ad offrire servizio e a garantire tutti i servizi come infatti vedete abbiamo attivo il nostro canale youtube abbiamo il nostro blog abbiamo una pagina dove voi vi potete documentare giorno per giorno sulle consegne sulle tempistiche e su quant'altro quindi noi siamo schietti siamo veritieri e c'è chiarezza in tutto quello che facciamo mi raccomando restate a casa vinciamo questa battaglia ordinate quello che volete noi penseremo a farvelo recapitare a casa ma vi chiediamo solo un po' di pazienza grazie per aver ascoltato questo mio annuncio e vi auguro una buona giornata un buon lavoro a chi è sul fronte quindi a contatto con le persone e vi auguro una buona permanenza a casa sperando che quando più presto possibile tutto questo passi grazie se volete potete iscrivervi al canale ottica telescopio alla pagina facebook ottica telescopio e potete accedere al nostro sito otticatelescopio.com così potete seguire anche il nostro programma di astrofi a casa che è un programma che stiamo offrendo gratuitamente per proprio darci un aiuto e per sentirci tutti un po' più vicini grazie alla tecnologia buona giornata a tutti